Mi dicevano quando senti le campane soltane in quella maniera ci sono o degli incendi o c'è il fiume che esce tanti problemi che poi tutta la gente si raccoglieva in un punto o alla chiesa o vicino ai casolari che uno aiutava l'altro perché mi sembra una bella idea nel senso aiuta in poche parole. E per quanto riguarda la foccia della Toccetta? La foccia della Toccetta secondo me per la mia per la mia poca come si può dire poca esperienza in campo penso che se quando un fiume viene deve correre in parallelo noi abbiamo un ingresso attivo l'acqua non può andare entrare nel fiume deve avere un ingresso almeno 45 gradi perché la deve aspirare poi che abbiamo un letto del fiume molto più alto che abbiamo questi problemi secondo me la cosa migliore è fare un ingresso più agevole in modo che la Toccetta entri nel toce e non ritorna indietro. Le parole del commissario l'hanno soddisfatta oggi? Sì sì lo conosco ho avuto già a che fare con lui è una persona a modo sa il fatto suo a mio parere chiaramente lui fa quello che può chiaramente cercherà anche lui di sistemare cerchiamo di salvare il salvabile l'abbiamo 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 l'abbiamo